eccoci qua con christian di play lover che è l'organizzazione numero uno in italia che aiuta uomini e ragazzi a migliorarsi nelle conoscenze e nelle relazioni sì perché puoi imparare a costruire una conversazione con una sconosciuta in pieno giorno di sera noi possiamo aiutarti organizziamo dei corsi di formazione dal vivo dove insegniamo questo su tutto il suolo italiano praticamente per mezzo di alcuni istruttori oppure magari non so c'è una situazione con l'ex da risolvere vuoi imparare a conoscere ragazzi in chat lo puoi fare attraverso le consulenze a distanza che vengono erogate dai nostri coach oppure ti puoi formare in questo ambito in maniera autonoma attraverso dei percorsi digitali che ti mettiamo a disposizione tutte queste cose noi le facciamo a pagamento perché questo è il nostro lavoro viviamo di questo abbiamo dei costi da sostenere e quindi noi facciamo pagare i nostri servizi il nostro sapere oggi il titolo ragazzi vi dico già che magari sembra banale però devo fare questi video mi ci costringete e dobbiamo aiutare le persone a comprendere quella che è la situazione in maniera tale che con i contenuti educhiamo le persone di volta in volta e speriamo che il livello si alzi perché in questo momento è ancora troppo basso e non possiamo parlare di seduzione conquista delle donne le entro nella testa no 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 ragazzi quella roba lì è troppo lontana facciamo dei passi indietro e riprendiamo dalle basi ragazzi che chiedono l'indirizzo della location quando play lover organizza i webinar ragazzi che chiedono l'indirizzo della location quando play lover organizza i webinar quindi da dove nasce questo di questo video nasce da questa circostanza ossia l'organizzazione dei vari webinar no quindi noi organizziamo i vari webinar dove lanciamo qualcosa di nuovo generalmente un videocorso oppure qualche altra iniziativa interessante ne abbiamo alcune altre veramente molto belle in arrivo è stato un anno 2021 bellissimo ho imparato un sacco di cose penso di esserne migliorato tanto e quindi sono molto contento e orgoglioso di aver fatto questi webinar e però quello che accade purtroppo è a volte imbarazzante cioè noi veniamo seppelliti da mail di richieste di indirizzo della location cioè le persone ci chiedono ragazzi ma dove devo venire a milano dove lo fate l'evento mi mandate il link di google maps posso sapere in indirizzo preciso dov'è la via dell'evento quindi questo fenomeno si ripete ad una velocità sempre maggiore perché impattiamo sempre su più persone e quindi io devo fare dei video per andare a risolvere tutti questi problemi altrimenti la nostra organizzazione viene abbattuta da tutte queste criticità che ogni giorno si palesano cioè noi non non riusciamo più a starci dietro di questi problemi no la carta con i limiti 250 euro quello che deve andare in banca e quello che manda la mail per l'indirizzo della location cose veramente incredibili quindi con questi contenuti mi rendo conto essere un filino diversi rispetto ai precedenti cerchiamo di portare le persone allo stesso identico livello le persone che ricadono in questa situazione hanno un deficit che è questo deficit l'attenzione per i dettagli ok se si chiama webinar secondo te dove si fa si fa il palazzetto dello sport si fa san siro si fa al teatro la scala di milano cioè dove si tiene questo webinar si tiene online web in ar è un evento che si tiene su web online quindi l'attenzione per i dettagli che serve nel mondo delle conoscenze uomo donna se ci seguite da un po lo sapete questo dovete ammetterlo webinar la radice web significa che praticamente si tiene online però se c'è questo deficit di attenzione per i dettagli mi dite come fate a migliorare nel mondo delle reazioni uomo donna ho messo la mano in tasca perché poi qualcuno dice che non sono sicuro se mi dò mano in tasca è come fate a migliorare nel mondo delle relazioni e le conoscenze se non avete attenzione per i dettagli la verità è questa se questo deficit ce l'hai nella vita quotidiana virgola ce l'hai sicuramente anche con le donne non è che con le donne sei diverso sei più spigliato no con le donne sei nella stessa identica situazione di carenza quindi devi fare attenzione ai dettagli perché questo tipo di abilità poi ti viene utile nelle conoscenze uomo donna e adesso ti faccio degli esempi esempio 1 esempio 1 formulare una frase di esordio dal vivo se non hai attenzione per i dettagli la tua mente farà fatica a creare una frase di esordio dal vivo perché perché tu vedi la ragazza bene la tua mente deve essere bombardata da idee e per far sì che le idee si generino devi avere molti spunti e gli spunti arrivano se tu hai una capacità di osservazione meticolosa quindi ad esempio guardi le scarpe guardi il colore delle scarpe guardi la borsa guardi il sorriso guardi la camminata guardi il trucco guardi lo stile guardi gli orecchini guardi tutta una serie di cose l'energia che ne so la camminata l'andatura il passo tu devi notare tutti i dettagli di quella donna ma come fai se la tua attenzione è così scadente non ce la fai la devi migliorare quindi devi abituarti a essere più attento perché poi l'attenzione che tu sviluppi nella vita quotidiana ti torna utile anche con le donne e quindi quando tu guardi una ragazza dal vivo e lì voglio dire dal vivo sai che la variabile tempo è molto influente perché non è che la ragazza la vedrai per due tre giorni camminare in strada a volte passa e o ci sei esempio due formulare una frase d'esordio in chat anche qua ti serve l'attenzione per i dettagli perché perché devi essere in grado di andare a esaminare tutte le foto del suo profilo perché possono essere fonte di ispirazione fonte di idee quindi vai a guardare le foto il personaggio lo sfondo dove è ambientata la posa i vestiti se ci sono degli animali se ci sono altre cose interessanti espressioni del viso particolari cosa sta facendo cosa non sta facendo la descrizione vado a leggere la descrizione la rileggo ancora perché magari ci sono dei sottotesti ecco che l'attenzione ragazzi è fondamentale quando andiamo a costruire una frase di esordio in chat bisogna essere veramente molto attenti e sintonizzati e uno degli esercizi che io davo ai corsi al vivo era questo io davo ai ragazzi delle foto e dicevo ragazzi sulla base di queste foto costruite mi delle frasi di esordio e li vedevo qual era il loro occhio per i dettagli perché senza attenzione non ci può essere qualità qua e qua quindi mi raccomando terzo e ultimo esempio esempio 3 costruire una conversazione costruire una conversazione non è semplice soprattutto dal vivo costruire una conversazione è abbastanza complesso inizialmente perché perché non avete molto tempo per creare dei contenuti e dovete essere abili ad ascoltare la ragazza a capire a quale parola vi potete agganciare e creare un contenuto collegato no quindi dovete essere in grado di recepire quello che lei vi sta dicendo e agganciarvi oppure qualcosa che vi interessa e vi incuriosisce lo andate ad esplorare però se avete dei deficit così grandi a livello di attenzione mi dite come fate a creare una conversazione di qualità con una donna è impossibile cioè bisogna tornare indietro essere persone migliori nel quotidiano essere più attente sul lavoro nella vita e quant'altro e poi si può arrivare a quel livello l'attenzione ragazzi a mio avviso è una delle qualità che più manca in quest'epoca soprattutto a causa dei social dei notifiche whatsapp e quant'altro mi raccomando quindi cercate di stare più attenti qui da christian per oggi è tutto